Come va? Tutto bene? Beh, accanto a Carlitos, è impegnativo, è un grande honor per me, per il Boca no. 12 anni? No, 95, 95. Del campionato? No, con questo si gioca la Sudamericana, la Libertadores. Non è come la Champions da noi, è rimasta soltanto chi vince? Il Huracan. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi dispiace che sta racconta viene. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Grazie a tutti.